Ancora un episodio di violenza al pronto soccorso di Piacenza. È successo sabato pomeriggio quando si è presentata una giovane con ferite e lividi, raccontando di essere stata aggredita dall'ex fidanzato. Poco dopo, un giovane si è presentato per avere notizie di lei e ha iniziato a minacciare i professionisti e a danneggiare la postazione di accoglienza. La ragazza e gli altri pazienti sono stati portati in un luogo sicuro, mentre medici e infermieri cercavano di calmare lo sconosciuto. Inutilmente perché subito dopo il giovane ha aggredito uno dei professionisti con un violento pugno al volto. È stato quindi immobilizzato dai colleghi assieme al personale di vigilanza e cacciato a forza dal reparto. L'uomo però ha tentato di rientrare per cercare la ragazza, spintonando medici e infermieri. A quel punto sono state chiamate le forze dell'ordine che lo hanno prelevato. Come medico di pronto soccorso di lunga data sono molto rammaricato per quanto accaduto, spiega Andrea Magna Cavallo, oggi direttore sanitario dell'azienda. Siamo di fronte a una situazione molto grave. Quelli che fino a poco tempo fa erano celebrati come eroi e angeli, negli ultimi mesi sono vittime di ripetute aggressioni. Ai professionisti coinvolti è arrivata la solidarietà dell'intera direzione dell'azienda sanitaria e il direttore generale Giuliana Bensa spiega che verranno coinvolti da subito il Risk Manager e il Servizio di Prevenzione e Protezione per valutare quali siano i provvedimenti più opportuni da intraprendere. Quello di sabato non è purtroppo un episodio isolato. I casi di aggressione al pronto soccorso di Piacenza, sia verbali che fisiche, nel 2021 sono stati 35.